Quando io ho cominciato a occuparmi di car design la valutazione dell'importanza del car design era molto bassa. Noi eravamo chiamati dalle aziende e dagli ingegneri a migliorare quello che era stato fatto ma non potevamo nemmeno dire troppo forte la nostra opinione e poi a poco poco c'è stato un coinvolgimento sempre maggiore ed oggi car design non solo appare dignità con tutto il team che lavora nella progettazione di una macchina ma direi quasi nell'elemento più secondo me più rilevante e più significativo. Come filosofia devo dire che io non faccio altro che seguire aggiornati quelle che sono state le linee guide che mio padre mi ha trasmesso. Sono da un punto di vista tecnico è tutto cambiato il modo di operare gli strumenti in cui operiamo però da un punto di vista direi essenziale queste linee guide sono ancora valide e cioè sono quelle di esercitare un'autocritica costante di constatare e controllare che ogni particolare abbia una funzione in modo che possa essere giustificato. Il ruolo del design è con grande soddisfazione che lo dico sta aumentando di importanza progressivamente. L'affermazione di un modello sul mercato a mio parere viene molto sensibilmente dall'emozione che prova, dalle sensazioni che suscitano i clienti, dal senso di curiosità, dal desiderio di possesso e tutto questo lo fa il design. Il primo amore non si scorda mai quindi la prima macchina veramente mia è stata una una Dino, una Dino Berlinetta speciale del 65, la prima macchina della Ferrari motore centrale. L'avevo tanto voluta come ingegnere, avevo suggerito a Enzo Ferrari quella disposizione meccanica perché mi permetteva un salto delle linee nuove e poi Ferrari l'ha fatta, io l'ho creata, l'abbiamo esposta a Parigi, è stato un successo come macchina e soprattutto perché è stata la linea a guida di tutte le macchine sportive che subsequentemente abbiamo fatto direi non sono nostre, anche i concorrenti hanno seguito molto quella tendenza. Le cose più importanti sono le cose familiari, sono l'incontro con mia moglie, sono il matrimonio che dura da 50 anni ed è un bel record, specialmente oggi. Sono le nascite dei miei figli, sono il fatto che ho visto tre figli che lavorano, lavorano con me, mi danno molta tranquillità per l'avvenire. Sto godendo quella meravigliosa epoca d'autunno che ha vissuto mio padre. Mio padre aveva molta fiducia in me, era sicuro che l'azienda fosse in buone mani, anch'io. E questa è una bellissima sensazione. Un episodio che ricordo vivamente è quando stavamo studiando le macchine sport per correre alle 24 ore di Le Mans. Non andavano bene perché si alzavano in prua in velocità. Allora Ferrari mi fece una telefonata delle sue. Non vanno, devi venire a Monza! Io saltai sulla macchina, corsi a Monza, non era ancora arrivato che per farmi provare il difetto mi cacciava sopra una macchina. Fece due giri, mi pare, con Billo Resi. Per me, io ero uno che guidava svelto, ma essere messo a Monza in mezzo a quel fracasso di quella macchina senza alcun isolamento e vedere che quando io avrei frenato lui accelerava ancora è stata un'esperienza veramente sovrumana. Poi sono sceso da lì e salito su un'altra Ferrari, la guidava mio cugino Nino. Alla curva di Lesmo siamo usciti di strada e la macchina si è incendiata e ne ho avuto basta. e quando poi sono rientrato un'autoambulanza in box Ferrari mi ha accolto hai capito com'era il difetto? E io non ho osato dirgli che non avevo capito niente, che l'emozione era stata molto più forte. Quando feci il discorso di laurea ai giovani studenti americani e non americani e gli ho detto voi avete un mestiere magnifico davanti a voi perché un designer può migliorare la qualità della vita, può mettere ordine nel disordine di questa vita, può rendere ogni cosa più ben accetta, più funzionale e quindi può elevare il livello di vita e quindi amate sempre il vostro lavoro, ma amatelo non tanto per le ricompense che potete avere, ma per la funzione anche culturale che voi svolgete. Senta lei mi ha fatto un'intervista da cui esco fuori, noioso, saccente, che dà benedizioni a tutti, senza difetti, senza paura. Non mi sono mica tanto simpatico, cerchi di rendermi lei simpatico con i tanti. Grazie. 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 Grazie.